Buonasera a tutti, mi chiamo Bianca, questa sera ho deciso di partecipare a questo programma perché per me la cucina è una continua evoluzione e una continua esperienza. L'essenziale è la cura nella preparazione delle pitanze e soprattutto nella ricerca degli ingredienti. Attraverso essi infatti possiamo continuamente scoprire nuovi sapori, nuove combinazioni, nuovi accostamenti e di conseguenza possiamo dire che la cucina non smette mai di progredire e ci sono sempre nuove ricette da provare.